Sono Filippo Ferlini di NewTek, siamo qua alla NAB 2018 per parlare con Digital Production rispetto alle novità che stiamo presentando in questa esposizione. Il nostro prodotto principale, il nostro prodotto chiave in questo momento è NDI. NDI è Network Device Interface, è un protocollo che stiamo proponendo per la produzione del video su reti IP o reti Ethernet da 1-10 GB. Per noi la produzione in questo momento deve essere una produzione flessibile, elastica, adattata al momento preciso in cui siamo. Questo momento ci richiede produrre di più spendendo meno, investendo meno soldi nella produzione. NewTek da sempre si è distinta come un'azienda che produce soluzioni tutto in uno, soluzioni di costo contenuto che possono compiere con tutte le necessità di una produzione di video in vivo. In questo momento NDI è un protocollo che sta ricevendo una grande accettazione da parte del mercato. 5.000 aziende hanno scaricato il pacchetto di sviluppo del NDI e ci sono già 1.000 prodotti disponibili con questo protocollo. In questa NAB stiamo vedendo un grandissimo livello di accettazione del protocollo NDI. Da parte nostra stiamo sviluppando prodotti dove la dipendenza dall'hardware sia sempre minore. stiamo pensando, stiamo calcolando che presto potremo lavorare video e audio ovviamente le nostre produzioni in modo virtuale, virtualizzato, sostanzialmente disconnettare o meglio detto lavorare più sul software che sull'hardware. Perché facciamo questo? Perché in realtà ci permette, come dicevamo, essere molto più effettivi nella produzione, poter contare con risorse adatte al momento o alla produzione specifica. In questa NAB anche presentiamo prodotti come la camera PTZ, PTZ, che è una camera robotica completamente controllata per una rete Ethernet, un solo cavo che trasporta il controllo, il video e il segnale di alimentazione incluso. In più il Connespark, che è una piccola cassa, una piccola scatola, diciamo così, che permette di convertire segnali da HLMI o SDI a rete, a NDI. In più, ovviamente, continuiamo complementando la nostra linea di prodotti, che sono principalmente switcher di produzione, che includono tutte le funzioni. In questo caso stiamo vedendo il TC1. Il TC1 è uno switcher completamente IP, ha quattro entrate e quattro uscite SDI, però tutto il processamento interno è fatto su IP. Questo, come dicevamo, ci dà una serie di vantaggi molto interessanti, come per esempio essere multistandard e multiformato. Il TC1 può lavorare fino a 4K, però partendo da SD, può lavorare in tutti i formati, 50i, 60i, PAL, il mondo, quello che noi chiamavamo una volta in definizione standard, mondo PAL e mondo NTSS. In più, un'estrema flessibilità, non solo nelle entrate e nelle uscite, ma anche nei sistemi di controllo. E' dire, possiamo controllare il sistema a distanza o condividere l'uso di questo sistema sempre su reti IP. Queste reti sono reti di costo contenuto, sostanzialmente perché sono reti tradizionali, come diciamo, reti che già sono presenti nei nostri uffici o nelle nostre case. Il mondo si sta muovendo ogni volta, ogni giorno di più, verso l'uso del protocollo internet per la gestione o per la condivisione di tutte le nostre necessità o di tutte le nostre funzioni. Dalle macchine, dagli automobili, anche al frigorifero, già è facile cominciare a vedere attrezzature di questo tipo che hanno un indirizzo internet. Questo perché? Perché evidentemente è molto più facile comunicare e muoversi in un mondo internet rispetto a, soprattutto nella produzione audio-video. Altri prodotti che stiamo presentando sono prodotti principalmente software. Questi prodotti software includono per esempio la possibilità di lavorare grafica direttamente da file Photoshop alla produzione audio-video direttamente senza dover passare per attrezzature costose hardware. In più stiamo presentando, perché la compatibilità con gli altri protocolli è fondamentale, che stiamo presentando un convertitore, un conversore dal formato SMPTE 2110 al NDI. Perché? Perché non crediamo che nessuno possa essere un'isola in questo momento e che ogni sistema di produzione debba essere capace di dialogare con gli altri sistemi di produzione. Pensiamo quindi a una realtà di interconnettività estrema dove possiamo usare tutte le risorse e andare a tutte le destinazioni. Da parte di Filippo Ferlini voglio ringraziarvi, da parte di NewTek soprattutto, voglio ringraziarvi e voglio ringraziare Digital Production per averci dato questa opportunità di comunicare qui dalla NAB 2018 da Las Vegas. Grazie a tutti!